...a Cagliari con l'autorevolezza della grande squadra. Orfana di Falcone, Conti e Turone, la squadra di Lidl ha vinto il primo confronto del campionato contro un Cagliari che ha ancora necessità di registrare le sue trame di gioco. Ma le grandi squadre, si sa, sanno rimediare alla meglio anche alle assenze dei migliori. Così Faccini ha fatto il Conti e Proasca e Valigi si sono divisi i compiti di Falcone. Schierata zona, la Roma ha comandato il gioco e dopo nove minuti è andata in gol proprio con Faccini un 21enne al secondo anno di Serie A. Tra poco vedremo l'azione del gol dell'ala destra romanista. Una punizione di Proasca e un perfetto colpo di testa del tornante giallorosso. Nel Cagliari quattro esordienti, lo stopper Bogoni, il tornante Rovellini, la punta Vittorino, la mezzapunta Uribe. I due stranieri non hanno demeritato. Molto movimento dell'uruguayano, qualche sprazzo di classe del peruviano che deve ancora lavorare molto per assueffarsi al gioco italiano. Buone comunque alcune sue invenzioni. Il tempo trascorre senza che il Cagliari riesca a rendersi particolarmente pericoloso. Nella ripresa al quindicesimo ancora Proasca inventa un cross basso per Pruzzo che Loi anticipa spedendo involontariamente il pallone alle spalle di Goletti. Il Cagliari si scuote e al 22esimo Piras attorcia le distanze concludendo una punizione battuta da Marchetti per questo fallo su Uribe. E' il momento migliore dei padroni di casa. C'è un atterramento in area di Uribe. I cagliaritani chiedono il rigore ma lo bello dice no. C'è poi un gol di Vittorino che si aiuta con la mano. E infine a quattro minuti dal termine la rete che suggella la vittoria dei giallorossi. La segna Iorio dopo un numero di alta classe dell'esordiente valigio. Una Roma dunque già a buon livello nonostante le assenze. Un Cagliari che a Giagnoni dà molto da pensare.